ma già la faiata chi me la racconta una storia ma perché non va a dormire chi me la racconta una storia ma questo racconta questo racconta ti me la racconta ehi il vecchio favore raccontami una storia annaggia che rispondo una storia fattane ma quella racconta il cazzo gli racconta una storia bella dai il paracadute che si era aperto a metà che si era aperto a metà però si era salvato uguale perché era cascato su un'azienda dei materassi ma quella? quella? sì quella di coglioni ma non so quella quella del paracadute che gli si era aperto a metà però si era salvato perché è atterrato su un'azienda dei materassi sì i materassi i materassi i materassi giocavano con l'inter raccontami levate raccontami quello no 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 levate per i materassi per i materassi ma anche tu gli hai detto sema buono i materassi mannaggia il cazzo che è in strada basta che basta voglio un basso ho dormito un garaglio no le minacce no dai e via vo' a dormire allora ciao ma nemmeno quella di quel capriolo ehi e lui dai no dai no quella no capriolo non ha già ancora ma è possibile capriolo fatti ma sarà ne più sapendo se prendono questi ma va via ma lo sapendo se prendono questi ma non la capisco io sono che ti chiappo Oggi partiamo così Com'è giusto partire Adesso arriverà Che arriva? Attenzione, rinforchetta, rinforchetta Con doppio rinforchettamento Fa un bel pagliaio E poi Arzughe? Che arzughe? No Regista dell'esorcista E' morto il regista Vai via Va via Guarda l'esorcista Guarda Non meno Non meno non ora è